Finale play-out di promozione, Gironevi tra Pianella contro Elicese, nota molto positiva, ovvero sia il ritorno allo stadio di una intera comunità pianellese, o meglio dire quella calcistica, come non mai. Sarà stato l'effetto spareggio, fischia Di Florio di Lanciano, mentre le riprese a montaggio sono del nostro Pino di Felice, per vedere qualcosa di importante bisogna aspettare il trentunesimo minuto, Elicese con Dincecco, direttamente da calcio di punizione, De Torre si fa trovare pronto. Il Pianella c'è, trentadue, c'è un calcio d'angolo, in area c'è, Marcedola, alto, quarantuno, Elicese cerca in tutti i modi di confezionare azioni positive, come in questo caso con D'Agostino, tentativo, balla in out. Il primo tempo si conclude con questa conclusione al 46, Di Buzio, calciatore di indubbio valore, ci prova esterno rete, 0-0 e si va negli spogliatoi. Sarà brutto dirlo, ma nell'arco dei secondi 45 minuti di gioco c'è stata una sola azione pericolosa da parte delle Elicese. Al minuto 14, Dincecco tentenna troppo, quando invece, a nostro avviso, poteva e doveva tirare di prima intenzione. Novantesimo minuto, Pianella 0, Elicese 0, si va ai supplementari. Nei primi 15 minuti di extra time non è successo proprio niente sotto il profilo di intensità di gioco, tanto meno di azioni da goals per entrambe le squadre. Dunque ancora, 0-0, briefing di tutte e due le formazioni, prima della disputa dell'ultimo tempo supplementare. Vediamo com'è andata. Quarto minuto, Rosini del Pianella, pericolo per Orletti. Tentativo da rivedere in slow motion. Sentori di vantaggio. Infatti, Pino Di Felice ci porta direttamente al minuto 8. Andrea Pretara. E lui, a grifare il momentaneo vantaggio. Rivediamo anche questo. 1-0. Nei restanti non accade più nulla di importante. Vince il Pianella e resta ancora in promozione. Daniele Fani, per dire il vero, le manca il respiro. Sì, le manca il respiro, Mario. Perché comunque la salvezza è qualcosa di importantissimo. Ho visto la gioia dei ragazzi, ho visto il pianto del presidente Leonardo, che, porca miseria, è una persona così appassionale. Appassionale, poi così, davvero è stata una gioia immensa. È stata molto più dura di quello che pensavamo potesse essere. E' vero che hanno costruito poco, ma è anche vero che noi abbiamo fatto anche poco in fase offensiva. Quindi è stata una partita che si è trascinata negli ultimi minuti. Questa grande giocata di Rosini, alla fine, ha messo questa palla e ha fatto il gol Pretara. Per dire il vero, Daniele, è stata una brutta partita per entrambe? È stata una brutta partita, assolutamente sì. È stato uno spareggio, davvero. C'è stato poco da salvare sotto l'aspetto tecnico. C'è stato tanto da salvare sotto l'aspetto del temperamento, della voglia. Ma lo conosciamo noi, un certo Daniele Fani. No, nel senso che è stata comunque una guerra, perché questa partita andava giocata in questo modo. I ragazzi si sono prestati a questo. Noi abbiamo fatto una grande rincorsa. Credo che alla fine, al di là di questa partita, di questi 120 minuti, il Pianella abbia meritato, rispetto alle licesi, di rimanere in questo campionato. Ecco, dico, nel complesso. Per quanto visto. Per quanto visto in tutto il campionato. Moreno Miccoli, direttore sportivo del Pianella. Ma, cosa dire, Pianella ce l'ha fatta, insieme a lei, una vittoria che ci voleva per restare in promozione. Giusto? Sì, è stata dura. È stata difficile, perché anche negli accoppiamenti, onestamente dopo la sconvitta delle licesi con la Rosetana, avevo paura di questa partita. Perché fra le quattro era, secondo me, la squadra più difficile da affrontare. Cognosa? Assolutamente sì. Poi, l'avevo detto anche in un'intervista settimana scorsa, a dicembre, hanno fatto delle operazioni importanti, hanno portato a casa dei giocatori di categoria. Comunque, parliamo della partita di oggi che resta indelebile. Tanta emozione, Moreno. No, sì, ma io lo sapevo. Chi mi diceva, fino a stamattina, ce la fate, questa è una partita che non c'entra nulla col campionato. Bravo! Sapevo che era così, sapevo che magari se riusciamo a sbloccarla subito, probabilmente, per come stavamo, riusciamo anche a non avere problemi, però sapevo pure che se non segnavamo c'era da soffrire e abbiamo sofferto. E la salvezza la dedico fondamentalmente alla società, perché nei momenti difficili e quest'anno di Forse Grandini ce ne sono stati tanti, tantissimi, e siamo stati vicini, vicini al sottoscritto, allo staffa, alla squadra, ai ragazzi, semipuntuali su tutto. Molto bene, io la definisco, simpaticamente parlando, il man of the match, colui che ha segnato, che ha regalato, diciamolo, la nuova promozione al Pianella. Andrea Pretara, l'applauso lo potete fare, dai. Ma è una vittoria che abbiamo fatto tutti insieme, tutto il gruppo, lavorando questi ultimi mesi, veramente alla grande, sotto ogni punto di vista, aspetto mentale, tecnico, fisico, quindi in merito di tutti. Andrea, ho capito tutto. Cosa hai provato nel momento che sei riuscito ad infilare la sfera in rete? Un'emozione indescrivibile, penso. Infatti ho visto che correvi verso la tua famiglia, vero? Sì, sì, c'era una mia compagna, le mie figlie, mia mamma, e insomma ho deciso di... Di regalare, di fare questo regalo. Di fare questo regalo alla mia famiglia. Valerio Di Giandomenico, direttore sportivo dell'Elicese. Lei mi ha detto poc'anzi, io parlo anche se sono stato sconfitto. Ma assolutamente sì, la sconfitta è arrivata soltanto nei minuti finali, quando ovviamente il risultato a noi non andava bene, quindi abbiamo dovuto buttarci avanti per cercare di fare questo gol che ci avrebbe dato la salvezza diretta. Sapevamo che era una partita difficilissima qui a Pianella, perché loro hanno lo stadio nuovo appena inaugurato quest'anno, hanno un bel settore giovanile, un bel paese, quindi il blasone era tutto dalla loro parte e poi avevano i due risultati su tre. 120 minuti di pura adrenalina, non è bastato? Ma non lo so voi come l'avete vista, io l'ho vista una partita purtroppo bruttissima, però è uno spareggio, quindi non si è giocato praticamente per niente.